Musica Ben ritrovati cali telespettatori di Seila TV a questa edizione del nostro telegiornale. Martedì 1 agosto 2023 tra cronaca, attualità e sport andiamo insieme a vedere quali sono le notizie principali della giornata con i titoli del sommario. 61enne arrestato dai carabinieri due volte in 24 ore perché era al bar nonostante fossi agli arresti domiciliari, in passato già denunciato dalla moglie. Stop alle lunghe attese in pronto soccorso lo promette il piano di riordino stilato da Regione Lombardia. Bilancio trimestrale di Ascom, a Bergamo commercio in chiaroscuro, più ristoranti e meno bar. Consegnate tutte le case aller del complesso di Borgo Palazzo, ma per i lavori di riqualificazione del bosco circostante serve ancora un anno. Atalanta, Zapata e Toure si allenano, Decateler in nero azzurro? Apriamo con la cronaca per raccontare una storia che è quasi del paradossale. Un 61enne è stato arrestato ben due volte in sole 24 ore e in una di queste era al bar nonostante fosse agli arresti domiciliari. Si chiama Mohamed Ashi, ha 61 anni e fa il muratore, ma agli onori della cronaca, si fa per dire, ci va per essere stato arrestato due volte in meno di 24 ore. Il primo reato è stato commesso nella notte del 30 luglio a Calcio. Nonostante il divieto di avvicinarsi all'abitazione della moglie per una denuncia di maltrattamenti, i carabinieri lo hanno sorpreso sotto casa ed inseguito fino ad Urago d'Oglio, dove il marocchino si è schiantato con l'auto contro un palo. Il 61enne è stato arrestato e momentaneamente messo ai domiciliari. Lunedì mattina i militari dell'arma si sono presentati al domicilio per accompagnarlo in tribunale per il processo per direttissima, ma non l'hanno trovato. Mohamed, nonostante il doppio divieto, si trovava ancora una volta in un bar nelle vicinanze della dimora della moglie. Altro arresto con l'aggravante dell'evasione. Ora parola al giudice che ha convalidato il primo arresto e si riserverà di decidere quale misura cautelare adottare. In passato l'uomo era già stato denunciato dalla moglie ed assolto nel processo. In più un precedente per droga. Doppio intervento questa mattina dell'elisoccorso, il primo per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 a Cologno al Serio, all'incrocio tra via Circonvallazione e via Locatelli. Una donna in bicicletta è stata investita da un camion. La 48enne ha riportato traumi seri a una gamba ed è stata portata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo con l'elicottero. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte della polizia locale di Cologno, intervenuta insieme ai vigili del fuoco di Treviglio e ai carabinieri di Orniano. Durante i soccorsi la circonvallazione è stata temporaneamente chiusa. A mezzoldo invece l'elisoccorso in azione per un ragazzo caduto in un torrente in località Ponte dell'Acqua. È scivolato su un sasso e si è lussato un ginocchio. Il giovane faceva parte di un gruppo in escursione. I compagni hanno allertato i soccorsi perché era impossibilitato a camminare. Sono intervenute le squadre territoriali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i medici dell'Areo che una volta stabilizzato il giovane lo hanno portato in elicottero all'ospedale di Sondrio per accertamenti. Ed è, a proposito di interventi e di soccorso, è esperienza un po' di tutti noi, almeno una volta aver passato un po' di tempo, chi più chi meno, in attesa al pronto soccorso. Bene, adesso arriva un piano di riordino da parte di Regione Lombardia che promette di migliorare sensibilmente la situazione. Basta attese infinite al pronto soccorso, perché si sa quando si entra e non quando e se ne si esce. È quanto promette il piano di riordino di Regione Lombardia per le strutture ospedaliere pubbliche e private per garantire l'immediata accoglienza della paziente nelle degenze e la continuità della presa in carico. Il tempo di permanenza in pronto soccorso, stando alle indicazioni, sarà limitato al tempo strettamente necessario per completare l'iter diagnostico terapeutico d'urgenza, di norma inferiore alle 8 ore. L'indisponibilità di posti letto nelle sezioni di degenza ospedaliere non potrà essere giustificazione sufficiente a impedire l'immediato ricovero del paziente da parte del medico di pronto soccorso. È chiaro che chi ha bisogno del pronto soccorso ha il diritto di essere assituito al massimo, ma è anche chiaro che con quella che è la nuova situazione nel nostro paese e quelle che sono anche le nuove tecnologie di cui noi possiamo disporre, molti problemi possono essere risolti direttamente sulla base di una chiamata al 112. Abbiamo in Lombardia, unica regione in Italia, dove c'è anche un sistema ormai di telemedicina, dove il medico dalla sala operativa dell'emergenza può parlare direttamente con la persona che chiede aiuto. Spesso sono quei codici bianchi e quei codici verdi che possono essere risolti senza dover andare al pronto soccorso. Per i pazienti meno gravi vengono invece implementati due percorsi, uno extra ospedaliero con il potenziamento della centrale medica integrata creata nella 2022 e dei team di risposta rapida, medico-infermieristico per le cure domiciliari degli anziani e dei fragili. E un altro intra ospedaliero con la predisposizione di un ambulatorio dedicato ai codici minori con un medico di emergenza-urgenza, ampliando così i posti disponibili in questa specializzazione medica che registra attualmente una grave carenza di professionisti e una progressiva riduzione di attrattività. Il 40% delle borse di studio e di specializzazione, infatti, non sono state assegnate negli ultimi anni. Con la riorganizzazione del pronto soccorso vogliamo dare ai medici dell'emergenza e urgenza un ruolo primario, vogliamo dargli una prospettiva, un futuro sempre più avvincente in questo campo e contemporaneamente la garanzia a chi si avvicina al medico di pronto soccorso di essere trattato nel migliore dei modi. Ancora Regione Lombardia, questa volta sulla sicurezza dei territori. Saranno 42 i comuni bergamaschi che accederanno al bando da 350 mila euro per fornire supporto finanziario ai territori in zona sismica 2 e 3 per il sostegno di parte delle spese sostenute. Regione Lombardia ha così voluto riconoscere misure aggiuntive a favore dei comuni nel campo della vigilanza sismica. Le domande ammissibili saranno finanziate in ordine di arrivo fino a userimento delle somme a disposizione. Investire sulla sicurezza sismica, ha affermato l'assessore Comazzi, è un dovere imprescindibile per la sicurezza dei nostri cittadini. Parliamo ora di economia perché sono stati presentati oggi i dati trimestrali dell'osservatorio Ascom Conf Commercio ed è un bilancio chiaro-scuro sulla ristorazione. Focus sul variegato mondo della ristorazione esposto dal primo osservatorio sui pubblici esercizi Ascom Conf Commercio Bergamo, un monitoraggio realizzato in collaborazione con Fipe Conf Commercio su elaborazione dei dati infocamere. Un quadro in chiaro-scuro con il saldo tra nuove aperture e serrande che si abbassano che registra valori in negativo, ma con un buon più 18,8% di nuove iscrizioni. Il settore nella Bergamasca si sta normalizzando dopo la tempesta Covid che ha setacciato le micro-imprese con un taglionetto di molte attività. A Bergamo si apre meno e si chiude meno, questo sembrerebbe anticipare il prossimo dato nazionale. Sul territorio a prevalere sono le ditte individuali con numerosi bar che hanno una sola persona impiegata, da notare l'inversione di tendenza di molti esercizi commerciali, anche di piccola metratura, che si reinventano ristoranti. Il rapporto è ormai 1 a 3. Tutti alle prese con la vera criticità che rimane la mano d'opera. Pochi giovani interessati a lavorare nel settore che spesso vede limitata la propria attività perché non si trova forza lavoro. A Bergamo il 32% di bar e ristoranti vedono saldamente in mano alle donne la guida dell'azienda, mentre nell'11% dei casi al comando c'è un giovane. Infine le imprese straniere sono il 18% del totale, con una diminuzione consistente del predominio asiatico. E ora vi portiamo di nuovo nelle case gestite da Aler a Borgo Palazzo 132. Vi avevamo raccontato delle situazioni di degrado, di abbandono del verde. Ebbene, queste situazioni sono state sistemate da Aler e sono stati anche consegnati tutti gli alloggi in canone calmierato. Sentiamo. Borgo Palazzo, civico 132. Qui sorge uno degli edifici amministrati da Aler con maggior disponibilità di unità abitative e oggi è stato consegnato l'ultimo dei 77 appartamenti a canone moderato, riqualificati in classe energetica massima, che vanno sommarsi ai 30 canone popolari, gestiti sempre dall'azienda regionale. I beneficiari sono famiglie con ISEE fino a 16.000 euro che possono ottenere alloggi a costi del 20% più bassi del mercato libero. Si parla di 300 euro al mese per 70 metri quadri e 420 per i 90 metri quadri. Un mix residenziale unico in città tra servizio abitativo pubblico e case in canone calmierato. dare l'opportunità anche a delle fasce che vanno dai 10.000 ai 16.000 ISEE, che quindi non sono così abbienti, ma che ad oggi non potevano avere l'opportunità di avere un alloggio pubblico. Un alloggio pubblico con un canone che si è calmierato, ma che dà anche la valorizzazione di quello che si va ad investire. Un progetto partito nel 2001 che è stato rallentato dalle cause in corso verso fornitori e aziende in adempienti e che ha visto una spesa complessiva di 19 milioni di euro tra investimenti in riqualificazione, la creazione di una piazza e parcheggi a titolo di compensazione urbanistica, così come il bosco attrezzato che circonda il complesso residenziale, che sarà pronto entro il 2024 e che ha visto lievitare i costi negli anni. È evidente che aver atteso le scelte a parte del Comune e aver fatto cambiare tre volte il progetto è significato passare da 600 milioni di opera a 1.200.000 di opera. Io credo che sia l'ultima volta che possiamo finalmente finire anche il bosco che sta attaccato al fiume e creare questa pista ciclavia. Capitolo a parte, la gestione della manutenzione ordinaria degli immobili meno recenti e della cura del verde, più volte segnalata da residenti anche attraverso le nostre telecamere, ALER e Corsa ai ripari per risolvere le problematiche. È evidente che se una ditta vince un appalto e ha 41 richiami perché non pulisce, ci ha portato a rescindere il contratto dall'incarico ad altre persone affinché lo facciano. La voglia, i soldi ci sono per pagare queste persone qua e le ditte che vengono incaricate e devono fare i lavori perché la gente deve vivere bene nel complesso in cui abita. Voltiamo pagina alla cultura ma che è anche sport perché sono aperte da oggi le iscrizioni per la Millegradini 2023, la camminata culturale non competitiva che attraversa città alta e città bassa tra scorci, salite, angoli meno conosciuti e palazzi storici. L'appuntamento è per domenica 17 settembre ma è già possibile riservare il proprio posto accedendo al sito endu.net. Tre diversi tracciati, un percorso verde di 7 chilometri, uno bianco intermedio di 11 chilometri e uno rosso, il più impegnativo, dalla lunghezza di 16 chilometri. Già sabato 16 settembre però i partecipanti potranno accedere agli oltre 50 luoghi artistico-culturali aperti al pubblico per l'occasione. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, ora ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale per la pagina sportiva. Restate con noi. Ben ritrovati nella seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con l'Atalanta perché sono partiti gli allenamenti, in particolare Zapata e Toure sono scesi in campo per allenarsi e sul versante calcio-mercato si profila forse l'arrivo in nero-azzurro di De Ketelar. L'aria di Zingonia fa bene mentre Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo insieme al nuovo arrivato Toure e con le nuove voci sul mercato atalantino. Dopo i 30 milioni investiti sull'attaccante del Mali si cerca un profilo giovane dalle qualità indiscutibili, anche se alla ricerca di se stesso dopo una stagione certamente non esaltante. Il nome giusto è quello di De Ketelar, un 2001 con i piedi buonissimi, trequartista avanzato, classe e visione di gioco, insomma una promessa che ha steccato nel Milan con 32 presenze e nemmeno un gol, ambientamento difficile e forse uno scarso feeling con il gioco di Pioli. Gasperini tra gli altri meriti sa come fare per riprendere un ragazzo e ridargli fiducia sviluppandone le qualità. Unico problema l'ingaggio che supera i 2 milioni all'anno. Se a Milanello faranno un piccolo passo indietro, l'impressione è che dalle parti di Zingonia ci sia tutto l'interesse per portare la promessa del Belgio a Bergamo. E ora la Serie C perché anche l'Albino Leffe scalda i motori o meglio i muscoli per la prossima stagione. Allora sentiamo le parole di Mr. Lopez e di Capitano Borghini. L'Albino Leffe versione 2023-2024 si sta plasmando. Tra ritiro e amichevoli il neo arrivato Mr. Lopez sta ricevendo le indicazioni necessarie per essere pronti all'avvio di campionato. Una stagione che vuole cancellare quella complicata dello scorso anno terminata con la salvezza ottenuta ai play-out. Il bilancio è estremamente positivo. I ragazzi sicuramente ho trovato dei ragazzi propensi al lavoro, abituati al lavoro. Devo dire che sotto questo aspetto sono molto soddisfatto per cui stiamo lavorando, i carichi sono notevoli. Il mercato sta rimescolando non poco le carte dei blu celeste con partenze pesanti, quelle di Manconi su tutte e innesti mirati voluti dal nuovo DS Obedio. Il mercato se ne occupa Obedio, queste sono le disposizioni della società magari sotto direttiva per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori. Quello che posso dire ai tifosi è che noi faremo la nostra parte, nel senso che tutte le partite onoreremo comunque la maglia che indosseremo. Sotto questo aspetto le mie squadre non hanno mai fallito e so che i ragazzi non falliranno nemmeno loro sotto questo aspetto. Ci toglieremo delle soddisfazioni come ho detto. È ovvio che restiamo comunque una squadra con delle caratteristiche e una sua fisionomia di gioco. Io sono molto fiducioso sotto questo aspetto. Umiltà e spirito operaio ma anche tanta fiducia e buon umore portati da Capitan Borghini. Vedo tanta applicazione, vedo tanta voglia di migliorare, di lavorare e questa sicuramente è una base importante. Poi da qui starà ognuno di noi a fare bene e cercare di migliorare se stesso e il gruppo in generale. Questo mister ci sta facendo lavorare sulle proprie idee e comunque ci stiamo trovando bene, stiamo attraendo dei benefici e appunto bisogna fare quel che dice lui e sicuramente le cose andranno per il verso giusto. La promessa è che ogni partita daremo il 110% e faremo di tutto per regalare gioie ai nostri tifosi. Ed ora il meteo perché agosto è iniziato ma l'estate forse è già finita. Sentiamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola, un po' di variabilità sull'arco alpino con qualche possibile fenomeno sparso. Nel corso della giornata i mercoledì hanno più spazi soleggiati anche sulla Lombardia con un po' di variabilità che potrà insistere sui rilievi alpini con qualche possibile fenomeno sparso nel corso della giornata. Temperature massime senza variazioni con valori compresi tra i 29 e i 32 gradi, caldo ma senza eccessi. Condizioni di variabilità anche sulla provincia di Bergamo con ampi spazi di cero sereno, qualche nuvola in più potrà insistere sui rilievi ma senza conseguenze. Temperature massime stazionarie con valori intorno ai 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Nella giornata di giovedì tempo che sarà in netto peggioramento con il ritorno di rovesce temporali localmente anche di medioforte intensità accompagnati da improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Ne conseguirà un calo termico massime infatti che difficilmente andranno oltre i 25 e 26 gradi. Vediamo che cosa ci attende nel corso dei prossimi giorni. Nella giornata di venerdì tempo ancora instabile con rovesce temporali localmente anche di medioforte intensità con temperature in ulteriore calo ma tempo che tornerà a migliorare a partire dalla giornata di sabato con temperature che saranno in lieve ripresa. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. È tutto per questa edizione, non ci sono ulteriori aggiornamenti, io però vi invito a restare in contatto con noi. Potete scriverci a redazionechiocciola6latv.tv per segnalare le vostre notizie, le vostre segnalazioni appunto. Appuntamento domani con l'informazione del nostro telegiornale puntuali alle 19.15. Vi auguro una buona serata.